buongiorno amiche buongiorno amici buon sabato buon sabato a tutti qua è iniziata malmostosa la giornata umidosa pure più avviginato foschia poi adesso sì c'è questo questo cielo un po così lattiginoso con queste velature maestrane sempre più consuete queste belle griglie che ancora qualcuno dorme pensa che siano ormai si è condensa svegeve per favore svegeve perché qui ci montano con la testa con i piedi sulla testa vabbè andiamo avanti cosa vedete qua davanti avevo già registrato un vocale dove sfogliavo il giornale ma a 47 minuti non avevo ancora finito ma la batteria si è esaurita è rimasta così e allora ho detto faccio la seconda parte no allora lo risfoglierò cercando di essere un po più svelta ma che stress però correre sfogliando un giornale è pieno una rivista rivista perché l'abbiamo già vista rivista con la camilla ieri sera mi sono filata sotto al lenzuolo vicino a camilla qua nella dormeuse in sala da pranzo perché questa noi abbiamo anche la stanza degli ospiti che sarebbe il mio laboratorio ma il mio laboratorio è impraticabile sia come stanza per gli ospiti che come laboratorio è un bordello in realtà adesso è un magazzino disastrato perché mi sono piovuta in terra scatola un gomito lì da raccattare riviste scivolate quella appunti che sbucano no mamma mia vabbè 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 ho tolto il telaio già ci si cammina devo arrivare all'orditoio mamma mia ecco i spostamenti si va riorganizzato lo dici da tempo e lo dico ma prima o poi lo farò già qualcosa ho recuperato allora la rivista poi ve la risfoglio è bellissima cercatevela perché abbiamo delle belle idee per dei cadeaux per del bricolage per del tricot per del feltrage vabbè no il feltro si c'è da qualche parte qualcosa di infiltrato e poi c'è l'etissage ricamage vabbè la cucinage o quante ne ho fatte di ricette copiate dal Marie Claire quando ancora glutinizzavo frequentemente adesso cosa ho messo perché prima della scopola avevo glutinizzato troppo frequentemente e infatti come si chiapa un accidente poi non ce lo togliamo più da addosso ho ancora dei valori io li vedo ho ancora le sclere gialle ho ancora l'itero no ancora la bilirubina un po alta ma finché non smaltisco ma io non lo so il naso non ho più la mia voce ho quella fitta costante nel mezzo del naso sapete quella che si inizia ad avvertire prima di fare una serie neanche uno ma una serie di starnuti quello fisso che è una rottura di scatole poi ci sono momenti dove fa crack e si tappa del tutto momenti che si stappa non produco muco non lo so se si sta accumulando da qualche parte come la cellulite ma santa pace devo andare a fare lavaggi nasali adesso vado allora a gennaio tornerò a fare un po di nasati lavaggi nasali alle terme nuovo anno solare così potrò riapprofittare di questa convenzione che non ho mica capito quanto conviene quanto convenga rispetto al listino prezzi delle terme a me pare che siano uguali come a me passa di sospenso c'è qualche spezzina vero qua che mi segue qualche ligure che capisce il mio idioma mescolato con altri oh ve la voglio sfogliare perché ci sono un sacco di idee poi rimembranze le stampe con le foglie il foliage casalingo ce l'ho il foliage autunnale sul pannello tenda che ricamai quando ancora stavo da altre parti ricamato con l'orlogiorno un orlogiorno tutta quella mamma mia ma come ero virtuosa una volta solo da un lato è l'orlino era una quello è un cotone italiano quando ancora avevamo un sacco di aziende in italia in lombardia ero mezzo alle tessiture alle concerie purtroppo che puzza le concerie e a tutte quelle piccole piccole aziende laboratori la fabbrichetta sotto casa e me lo regalarono me la regalò tutto quel tessuto che era 18 metri di tessuto di cotone non candeggiato me l'aveva regalato da asciura dalla proprietaria di quella fabbrica dove producevano anche il jeans per armani il tessuto che poi veniva confezionato altrove e tante cose belle ma ero comprata del jeans morbido parlo del tessuto e producevano un sacco di robe di castano però lei non mi ricordo se era la fabbrica ce l'aveva vicino a castano a castano primo era tutta una zona tra cugiono busto al sizio legnano turbigo dove io abitato magnago dove ho abitato per prima insomma io tra turbigo poi magnago e poi di nuovo turbigo la sposina prima magnago e poi turbigo turbigan jo no turbigan so e so 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 all'arbusta ho abitato super l'arbusta come si chiamava la via che ne so non me ne ricordo mezza di via dove ho abitato ma col numero civico chissà se riconosco la casa ma stava sopra due villette poi avevo una vista immensa davanti casa e si vedeva si vedeva la valle del ticino ovviamente stavo sopra turbigo turbigo aveva un prezzo neanche ma non mi ricordo io vedo cose di turbigo in rete che io voglio ci ho abitato cinque anni ci ho abitato la sua fissa ma chi se lo ricorda che le riconosce non so proprio un castello io mi sono sposata nel comune di turbigo è la prima volta quando stava ancora lì dove c'era quella fontana i 70 lì proprio lì dove per andare non mi ricordo una via guardate non me ne ricordo una dove ho abitato dove ho abitato dove ho vissuto mi ricordo però chi mi ha sposato mi ricordo poi una signora che stava lì all'anagrafe che poi abbiamo fatto tra l'altro il corso di il corso preparto insieme dove a cugiono sì però io non ho non l'ho fatta nascere all'ospedale cugiono camilla è nata magenta perché a cugiono all'epoca non c'era un reparto di neolatologia intensiva perché la camilla era insomma è stata una capitanza rischio quindi di grazia che ci sono arrivata a sette mesi e mezzo e va bene in realtà li rimembriamo insieme sulla mia bambina è data via sta andando a casa no sta andando al lavoro veramente sta andando al lavoro fa il pomeriggio è carica di cibini mamma ieri ha dato il meglio di sé ero sfinita ieri sera ho fatto la torta ho fatto una torta meravigliosa con delle varianti i miei esperimenti a mamma lunga tanto da fare un po un pochetto via un pochino un po impegnativa ma che buona già mi è venuto in mente come può diventare è una torta poi da fare durante le feste autunnali invernali per natale per natale è un po impegnativa perché insomma io non faccio i lievitati l'ho fatti ma no il nostro natale poi sono tante cosine perché a noi ci piace avere tante cosine ma sapete gluten free piripi trilili però riusciamo a fare delle cose buone questa torta meravigliosa che è stata appena pubblicata nella canale sul canale youtube ieri l'ho vista vista e presa ieri l'altro se non mi ricordo di vabbè poi ve lo ricette per gruppi sanguigni che ho modificato loro la propongono con le mandorle e io l'ho fatta con le noci perché camilla le mandorle di solito da un fastidio è stata è stata a o no mi viene in mente a pantelleria per otto giorni no state otto giorni avevi giorni quanto c'è stata ha mangiato mandorle ha mangiato glutine ha mangiato beata lei pomodoro ha mangiato di tutto adesso le vengono le bolle poi che diciamo bene sto così in bar qua se mangia la mandorla le vengono fuori delle robe vabbè 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 ha mangiato ricotta tutto a spiano lei è una ghiotta dei cannoli siciliani ma siamo estimatrici dei dolci siciliani ma anche quelli sardi dove c'è ricotta noi siamo felici e quindi si è fatta di quelle mangiate dei i baci di pantelleria che poi mi ricordavano infatti delle delle fritture che vedevo fare alla fiera di san giuseppe con quel ferro a forma di fiore in fondo con tutto un manico da tuffare in una pastella tuffare nell'olio puff si staccava il fiore e lì ne hanno fatte un dolce che poi non si sono più viste quelle cose quelle cose belle che si vedevano non di passato alle fiere il mio nonno compro a mia nonna la macchina per tirare per fare la pasta con le trafile in bronzo per tutti i formati anche i biscotti ci ho provato a usare secondo me manca un pezzo madonna mia che fatica quando ero nella prima casa abitata qua che l'avevo tutta ricomposta l'avevo lasciata a vista ogni casa che vivo è diversa sempre con le nostre cose cose perse che poi qualcosa che ricicliamo nelle case dove andiamo come qua mi diverte e insomma l'avevo lasciata vista avevo fatto un periodo ho fatto un'estate a far pasta tutta l'estate tribolando per quella l'umidità di quella casa infatti poi ne ho trovata in sei mesi sono stati sei mesi più lunghi della mia vita per trovare questa casa dove stiamo adesso ho salvato i miei filati i miei libri le mie riviste quella casa era umidissima umidissima in un'estate siccitosissima ho fatto amicizia a quei di rimpettare la mia amica purtroppo che non c'è più però ho fatto una bella chiacchierata con suo marito finalmente e il primo natale noi l'abbiamo trascorso con loro insomma facevo la pasta con la macchina per la pasta sapete era tutto marchi in genio tipo quello che si utilizza per fare la salsa di pomodoro no con la manovella solo che è in boh non mi ricordo che metallo è il corpo beh la mani la mani la mani la manovellona e poi tutti i dischi da cambia che la menata da da fare pulire e i dischi in bronzo per tanti formati le pappardelle lì le cose ricce i tocchetti i che ne so la pasta corta i biscotti di me in biscotti mamma mia che fatica ci vuole una forza disumana ma come faceva a usarla mia nonna a quel lavorone chissà se l'ha mai usata secondo me l'ha mai usata e mio nonno gliela regalò la fiera di san giuseppe quando erano appena sposati i tesori finita la guerra è antica la nostra fiera di spezia venivano tutte queste cose quando non c'era ancora la rumenta in giro quella roba che compri dopo un attimo te se spacco a mano ecco una volta si andava alla fiera per comprare le attrezzature quelle buone tutte quelle cose difficili da trovare che arrivavano dove questo quell'oggetto era una tipicità era un virtuosismo del luogo no certi legni certi metalli certi attrezzi per la campagna per la casa la cucina le belle coltellerie noi ce l'avevamo a spezia una buona coltelleria adesso non mi viene il nome mannaggia in piazza del mercato vai da tei oh da tei andavo da tei a farmi ruotare le forbici alcune forbici che usavo prima di adottare le yasaka o altre forbici giapponesi per il taglio dei capelli ma tutte le forbici coltellame di casa si andava da tei con l'h a farla ruotare e poi tutto quello spiegami a me io amo le attrezzi c'è un signore qua vicino che ha una carrozzeria ma bella devo fotografare parte che mi piace la casa che ha poi un rosso che si ripete nel cancello sotto il tetto sono un rosso molto nordico e ha una un'officina meravigliosa mamma mia ci ho fatto una chiacchiera con quel signore che ha ha anche collezionato degli attrezzi per la come si dice attrezzi per la campagna e aveva allestito un museo ce l'ha aperto per le scolaresche poi lui si è scocciato perché non sono capace i bambini sono distratti le maestri non li aiutano a capire a gara sono un poveraggio io le amo guardate gli attrezzi esposti il lavoro tutto ciò che ci permette di concretizzare di aggiustare di realizzare di dedicarci ecco le nostre mani all'opera i bambini non sanno più scrivere ma neanche le persone sanno più scrivere non è solo tastiere fa male al nostro cervello sapete che è una parte importante la nostra evoluzione con la grazia proprio alla scrittura e ci vogliono togliere anche questa capacità transumanesimo vi dice qualcosa a qualcuno complottista ma mi rendete conto che come tirano fuori queste cose vuol dire che c'erano delle verità ormai il meccanismo dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti i ragazzi sveggiano per favore se no qua queste nuove generazioni che andranno in giro con degli occhiali che simuleranno la verità già quando li vedo con gli auricolari fissi nelle orecchie mi fanno venire ma sento male me sento e che tutto si guarda attraverso un cellulare quella è stata la via ma guarda con i tuoi occhi poi racconta fai due foto e basta guardati direttamente senza pensare senza tenere questo braccio alzato batti le mani salta se sei un concerto goditi goditi tutto con i tuoi occhi che gli altri poi se lo vedranno andranno in rete se lo cercheranno se non ci possono andare in loco goditi i tuoi attimi e raccontali oh non l'hanno visto io faccio ma te non te lo godi te con i tuoi occhi è diverso è tutto u altro che grand'angolo i nostri occhi le nostre mani i nostri piedi che passeggiano dove su terreni diversi magari srucciolevoli anche sta attenzione che ogni tanto qualche rabattone in avanti o indietro lo ciapo oh che meraviglia a lorenza 14 minuti di cosa ma di intrattenimento di compagnia di saluto insomma ho fatto questa torta noci tutte spaccate a mano dal cile vabbè ho detto meglio dal cile perché vecchie di un anno dove ecco quelle le ho scoperte alla hop e sono buone sono sporche nel senso non sono state candeggiate come quelle che arrivano dalla california tutte ordinatelle in quel sacchetto di plastica preferisco le noci di sorrento ma a trovarle vabbè arriveranno quando sarà stagione non è ancora stagione tra un pochettino no no inizierà adesso forse inizia la raccolta delle noci dove ci sono perché qua si ammala tutto e quindi noci rotte da me striturata da me macinate poi da me carote tante carote ho grattugiato e ripesato uvetta che non vi dico dove ho ammollato ho avuto un flash e risalato fuo così e poi poco poco zucchero e poi poco olietto e poi la ricetta voleva la farina mi pare di grano saraceno o di miglio non mi ricordo ho usato di riso quella ciò poi grano saraceno non va per me e poi che ci ho messo che manco mi ricordo un po di scorza grattugiata che ci stava bene con il segreto dell'ammollo dell'uvetta non ve lo dico e poi che ci andava due uvette mi sono dimenticata il pizzico di sale ci va il lievito per dolce anche quello l'ombroloppe però a volte lo faccio faccio con il bicarbonato e il cremor tartaro che vorrei comprarmi sfuso perché costa molto meno il cremor tartaro è so che ha a che fare con l'uva poi mi è veramente come dirvelo meglio ma cercatelo è assolutamente naturale il cremor tartaro col bicarbonato è un ottimo lievitante e non dà sapore per gli allergici al nickel o sensibili a lieviti comunque il lievito della hoppe quello linea dosa non so se lo conoscete dentro c'è la cosa di mais che io non dovrei e c'è e vanigliato non vanillinato e la vanillina non la uso allora o ho la vaniglia o non la uso perché devo mettere la roba finta che poi allora è inutile ah e poi che altro ci hai messo l'oretto mamma ah vabbè l'acqua diluita diluita con l'ammollo dell'uvetta che ci andava poi non mi ricordo più tutto lì può darsi beh comunque ce l'ho scritta perché poi ho seguito il tutorial però comunque ci ho messo del mio e comunque mi è venuto anche che con quei sapori che è un dolce strano è un sapore dolce ma non eccessivo è umido come dolce l'ho cotto nel fornetto versiglia e poi l'ho ripassato nel forno elettrico 10 minuti 170 gradi ma non ce l'ho fatta arrivare è un postato a 170 gradi come l'ho acceso ci ho messo il dolce ad asciugare ribaltato ovviamente e infatti è meglio perché rimangono morbidissimi all'esterno cioè la parte superiore della cottura insomma nel fornetto versiglia non fa quella pellicina cotta come il forno elettrico a gas o a legna e rimane tutto molto più morbido e quindi per farlo conservare meglio lo riabrostolisco un attimo ma poco 10 minuti prima che ci arriva a 170 gradi è già finito il tempo e ecco loro i due ragazzi la coppia giovane coppia l'hanno ghirigorato con del cioccolato fuso io invece ho pensato che il caramello salato lui sì che ci sta bene e poi ci sarebbe bene ovviamente ho usato le noci dentro la granella di noce esterna tostate io ho fatto l'errore di non tostarle le noci invece prendono più sapore occio a non bruciare gli oli insomma appena un po tostatelle ma solo che non ho lo stupo a legna acceso non voglio consumare gas e elettricità quindi ce l'ho sbattuta così però tostate meglio caramello salato e poi le noci tostate sbriciolate sopra e poi quando arrivano i marron glass ci sarebbero bene pure loro bene ieri sera ho fatto la pazza poi ho fatto una pasqualina senza uova camilla ho finito le uova quindi con la ricotta sì con la cipolla stufata sì la dieta era poca ci ho aggiunto dei broccoletti ah vabbè insomma ho fatto una torta di verdura chiamarla pasqualina la bestemmia insomma torta di verdura con la ricotta ho fatto la sfoglia maremma che fatica a fare le sfoglie con la farina di riso ci ho messo un po di curcuma l'olietto e l'ho fatta a guscio e se l'hai portata via poi che hai fatto l'orenzo ho fatto la ciambella di riso di farina di riso salata con i peperoni che avevo già cotto i peperoni dell'orto del mio vicino del mio padre di casa nel mio vicino che avevo già cotto bene papapapa i piselli la cipolla stufata pure lei e poi che ci hai messo farina non mi ricordo che ci ho messo quella roba lì rudervoli acqua olio ah i semi di lino ci ho messo è vero ci ho messo semi di lino macinati vabbè e perché mi serve era un po molliccio sì ma infatti ha dato una bella consistenza buona l'abbiamo assaggiata e si è portata via tutto camilla ma la mamma poi siccome aveva due contenitori a ieri sera che avevo preparato le patate già tocchetti ma che buone che vengono quelle rosse fatte che forma a confetto lungo sapete strette e lunghe delle robe ovaleggianti insomma l'avevo messa in ammollo per arrostirle in padella ma poi ieri ho fatto una cena svelta camilla in realtà mentre cuocevo il pesce no le verdure i decime di rapa i broccoletti che ho cotto i broccoletti gli ho messo anche le rondelle che avevo già tagliato di patate perché mentre lei ma io cenò prestissimo camilla no ma perché poi lei dorme ho cenato poi lei si è svegliata cena te io ho portato fuori il menu per l'ultimo giro poi abbiamo insieme bevuto la tisana e assaggiato il dolce che avevo fatto con le pesche quello con la farina di castagne senza zucchero e mi erano rimaste le altre patate che avevo previsto di usare per cena bene le ho cotte ieri sera tardi mentre cuoceva il dolce ero sfinita forza di lavare roba e le ho brustolite mi sono messa a mangiare mezza padellata di patate arrostite gli ho dato in un contenitore che aveva portato a lavare a mamma perché le sue cose erano le sue cose del lavoro allora nel contenitore gli ho messo le patate poi gli ho detto ma che gli faccio portare l'altro contenitore vuoto a figlia a mamma no e allora tagliata la verza il cavolo chiamo verza cavolo cappuccio chiaro mamma che ci ha dato dentro di mandolina è il mio attrezzo più longevo speriamo che campi ancora perché meravigliosa quella mandolina un unica lama che taglio attenzione mi sono affettata le maniche tante di quelle volte e quindi l'ho riempito il contenitore di di verde vabbè di cavolo cappuccio sapete che il cavolo cappuccio tagliato così con la mandolina asciutto è tenuto in un contenitore ermetico in frigorifero vi dura senza assidarsi due o tre giorni e poi quando inizia un po a mosciarsi non lo volete in insalata buttatelo in una pentola giuggete un po di carote un po di limpo una cipolla e fate una minestra io non butto niente insomma perché alla camilla ha usato ho comprato una bella mandolina nuova ancora impacchettata ho fatto mamma fa l'interrogatorio non l'ha spacchettata non l'ha usata mi ha detto non ho neanche cucinato e sono giorni che non cucina che non so cosa mangia non lo voglio sapere che è meglio e allora mamma gliel'ha dato cosa fa male cammina se ti va te lo mangi perché adesso mangia pure gliel'ha intanto ci sono le novità un muo mangia scondito che schifo io se già ho la pressione sotto i piedi mangio senza sale parte che non mi sazio ma sì è certo ieri mi sono messa due chichini sotto la lingua sapete quando avete la pressione bassa non mangiate cucchiaini di zucchero un chichino di sale marino sotto alla lingua anche due e lasciate sciogliere e vi si alza un pochino la pressione se state tanto male fate come mi ha detto il medico signora prenda il gutro l'ho preso per una vita non lo voglio il gutro me riprendo me riprendo non si dice lorenza no vabbè comunque sono allegra ho avuto amici da livorno abbiamo condiviso tanti momenti anche telefoni e adesso rientra è pazzita la mia amica doveva partire stamattina e invece sono partiti stanotte stavo anche in pensiero stanotte ho avuto gli incubi non ho digerito le patate ovviamente vado a mangiare gli amidi di sera sapete che picco glicemico soprattutto il mio stomaco che poi mangio alle 5 e mezza 6 ma sento quei profumi il rosmarino poi sono venute perfette lo lasciate tanto in ammollo lo asciugate bene bene poco olio un cucchiaio di olio nella padella grande antiaderente forte bella fatta bene e il coperchio a misura con loro vapore cuociono bisogna aprire scoprire scuotere senza aprire riscuotere senza aprire prima il fuoco un po più alto poi il fuoco al mio insomma bisogna seguirle un attimo ma anche veloce sono perfette come quelle che vorremmo tutti fare al forno che o le affoghiamo di unto o rimangono crude o diventano secche loro sono perfette perfette e non consumiamo elettricità tra la lero e tra la la quindi mamma dato tutti i contenitori pieni poi la borsa frigo di camilla che era piena di quattro quarti di torta con la ricotta e non so quante fette quanti cosa ho fatto quattro pacchettoni ma quello poi sazia di ciambellone salato e lì ci sta bene la verdurella e poi ci vuole ci può mettere la verdurella cruda vicino come contornino e poi ci può mettere la verdurella cotta e poi ci può mettere lei non mangia carne adesso ma il pesce e ci può mettere il pesciolino ieri mamma gli ha dato pesciolino verdurelle e patatine bogide ne ha d'acqua delle verdurine l'ho fatta asciugare ci ho messo poca acqua è tutto buono un goccino d'olio che non glielo ho detto ma l'avrà visto però è sta sita perché se l'hai trovato nel piatto a magna e che è meglio ecco fatto adesso ho tenuto compagnia poi vi devo parlare della rivista ciao e della bandana che ha fatto camilla e gliela gliela devo follare poi vi parlo di questo filato vi dico che cos'è la folatura poi andate sul canale youtube di federico scatizzi ircus colacca filati ci sono delle scuole importanti per le ignoranti no per tutti noi per chi le cose le sa se le ripassa il federico scatizzi signor federico scatizzi è un produttore di filati è un rigeneratore di fibre e filati ed è un distributore di ottimi filati tre tre attività diverse nella stessa rigeneratore cosa vuol dire che si prendono i filati oppure si prendono i capi nuovi si recuperano le fibre si realizzano filati nuovi oppure no i filati no non credo che rigenerino da filati poi distributore che cosa vuol dire che acquista stock di filati da produzioni altre quindi sì lo svuotamento quello serio dei magazzini da parte di chi è competente io mi fido dello signor scatizzi ho preso ottime cose dallo scatizzi tipo questo filato qua quando ancora commercializzava sia le le rocche che le matassine questa è stata una matassina è un cashmere meraviglioso ma non ve ne parlo e poi è un produttore appunto di filati di qualità e anche veramente certo le rocche sono impegnative per chi non fa delle grosse produzioni ma ci sono delle meravigliose offerte e io ci butto sempre no che ogni tanto le faccio faccio fare gli affari anche le mie amiche come si fa a capire se quel filato è diciamo è è un buon affare bisogna conoscere i filati le fibre conoscere i prezzi e e sapere anche più o meno che cosa ci si può aspettare da quel prodotto sapete no questo filato è un moer 80 per cento e 20 viscosa e poi assorreta che è un acrilico che cammina solo soprattutto quando poi compriamo delle cose che dovrebbero essere tutte uguali se si chiamano gigine cicine le etichette porta le stesse indicazioni e invece anche no le sorprese amare 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 ma la vita poi la possiamo far addolcire come l'addolciamo ma andate a spiegolare i farlocchi e andiamo andiamo ad acquistare dalle persone serie e competenti come si fa a sapere che sono competenti guardate andate a vedere come si esprimeva lì sapete che ne sapevano come niente e basta pazienza che pazienza i soldi sono importanti le persone faticano per guadagnare i soldi ai ragazzi e quindi quella non è beneficenza quella è prendere per fondare io non ci sto al sole non ci sta perché divento bruna al sole della luna mi voglio maritar al sole perché al sole della luna al bu come che era ragazzi ve la ricordate non può essere al sole della luna non riesco a fare la rima non riesco a fare la frase non me la fa 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 dore mi fa sol la si do era io sono contadinella della campagna bella se fosse una regina sarei incoronata ma son contadinella mi tocca lavoratore mi fa fa dore mi fa fa dore mi fa sol la si do aiutatemi un po' a finire quella frase là non è al sole della luna al sole della luna mi voglio marita va bene sapete no che le contadinelle non avevano il vitino di vespa perché non indossavano la il bustino e poi avevano la pelle scura e la pelle scura è un disonore che voleva dire che stavi è una persona umide adesso poi sono la rivalsa delle contadinelle gente che si è fatta venire solchi di rughe inutili perché si sono cotte la pelle al sole e alle lampade è la loro vendetta ecco le contadinelle le donne cinesi viaggiano con l'ombrellino perché non amano l'incarnato colorito e infatti vedete anche le geisha quei trucchi bianchi bianchi che bello io amo il mondo giapponese è difficile siamo tutti sulla stessa sullo stesso pianeta guardate che mondi che sono da proteggere ci vogliono mescolati e bastarditi nel senso perdute le nostre tradizioni come se non fossero un valore i nostri trascorsi la nostra territorialità che sembra una brutta parola è qualcosa di meraviglioso la nostra storia e no io non ci sto non ci sto facendo